E' per noi un punto fondamentale oggi, l'apertura di questa nuova rotta. Mi vengono in mente tante cose, avendo questa città, questa bellezza allo spalle, mi viene in mente anche qualcosa di più poetico, Italo Calvino nelle città invisibili diceva che delle città non si ammirano le 7 o 70 meraviglie, qui se ne ammira tanto, ma le risposte che dà alla domanda di ciascuno. Si viaggia per dare risposte a domande, che siano domande di altissimo livello, come domande che invece danno risposte al quotidiano, quali sono quelle degli imprenditori che da qui arrivano e partono. Per noi è fondamentale aprire questa rotta perché chiude un po' tutto il bacino con il Sudafrica e il Sudamerica, che era per noi un punto dolente. Ed è anche, permettetemelo, un punto di orgoglio, perché il Portogallo è l'emblema forse anche di quello che è stato Firenze e il Rinascimento. Da quel piccolo stato all'epoca, quella piccola monarchia, partì Vasco de Gama per andare a doppiare il capo di Buona Speranza, che il nome rende sostanza di quello che fu quel viaggio. Ecco, quindi chiudere il cerchio con il Portogallo è fondamentale per chi arriva e che parte da Firenze e per i nostri imprenditori, che hanno sempre di più nell'Africa, che è uno, gli Stati all'Africa, sono tra gli 85 punti che serve Lisbona come hub ed è una piattaforma straordinaria per l'economia dell'Europa, l'Africa, come per il Sudamerica. Dal Sudamerica noi veniamo, perché i nostri azionisti principali, qui colgo l'occasione per ringraziare l'ingegnere Naldi, mio vicepresidente, ma soprattutto il presidente di Corporazione America Italia, che è il nostro azionista di riferimento, noi da lì veniamo e noi da lì in qualche modo vogliamo arrivare. È un punto importante che però è solamente un punto di passaggio. Con tutto il management dell'aeroporto, ringrazio l'amministratore Ginagiani, il delegato, ringrazio il direttore commerciale Linda Stivala, consideriamo questo un punto di partenza. Il punto di arrivo per noi è rendere anche a noi, come diceva Italo Calvino, la risposta alla nostra domanda, la risposta che questa meraviglia, questa città attende, finalmente avere un aeroporto degno di questa città. Ecco, questo è il nostro sogno, questa è la nostra buona speranza. Speriamo, come dire, di essere a un buon punto. Grazie ancora.